Mac si operazione antidroga tra Scafati e Bosco Reale. 36 sono le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Salerno. Le accuse sono di detenzione, traffico ed associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'operazione battezzata My Love si è sviluppata partendo da due episodi criminosi verificati sia Scafati. L'omicidio del pregiudicato Armando Faucitano ha ucciso a colpi di pistola nel 2015 e l'attentato di Namitardo posto in essere nel 2016 ai danni del bar My Love. Dalle attività investigative dirette e coordinate dalla direzione distrettuale antimafia è emerso che sarebbero due le presunte organizzazioni criminali di cui una base familiare in cui sarebbero stati utilizzati anche minori di 14 anni per lo spaccio di droga. 36 le persone raggiunte dall'ordinanza di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Salerno. Per 23 persone è stata disposta la custodia in carcere e quella ai domiciliari per altre 13. Due indagati ancora ricercati perché sfuggiti alla cattura. Il blitz è stato messo a punto all'alba di questa mattina dai carabinieri supportati in fase di esecuzione dal settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano, dal nucleo cinofili di Sarno e dai comandi di Napoli, Caserta, Brescia, Taranto, Ferrara e Monza-Brianza. Entrambi i sodalizi, così come è stato detto stamani nel corso di una conferenza stampa convocata dal procuratore Borrelli a Salerno, gestivano le piazze di spaccio e i circuiti di clientela erano accomunati dall'esistenza di rapporti familiari che rafforzavano il vincolo associativo. Un giro d'affari che sarebbe arrivato a registrare anche 100 cessioni per 2.000 euro ad associazione al giorno per un fatturato complessivo di un milione di euro. La droga veniva acquistata sia sulla piazza napoletana che dall'Olanda, come dimostrato anche da un sequestro avvenuto in Germania. Nel corso delle indagini sarebbe emerso il coinvolgimento di minori di 14 anni impiegati dalle madri nelle piazze di spaccio come pusher e in alcune casi anche come assuntori di droga. La loro posizione ora al vaglio della procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno. Effettivamente sì ci sono stati diversi casi di minori assuntori di droghe e quindi questo conferma la pervasività del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e non solo anche a livello di estrazione sociale c'era una trasversalità notevolissima quindi estrazioni basse e medialte della società ma la cosa più preoccupante è comunque quella dei minori su cui ho fatto veramente un punto di riflessione. Sì erano due gruppi uno era diciamo preminente e l'altro minoritario rispetto al primo anche se aveva la sua piena ed efficace autonomia e tra i canali di approvvigionamento del secondo c'era anche il primo che aveva maggiori disponibilità di sostanze. Come detto non c'era una piazza di spaccio fisica ma vi era diciamo una distribuzione in diversi quartieri sia centrali che periferici della città di scafati e questo dà anche l'idea di quanto sia duttile la struttura organizzata organizzativa delle delle consorterie proprio per distribuirsi e creare un reticolo territoriale urbano difficilmente controllabile. Il collegamento è che c'erano alcuni soggetti che sono stati monitorati nell'immediatezza dei fatti di del primo fatto di sangue e poi dell'attentato il secondo attentato che viaggiano chiaramente come episodi criminosi su canali processuali autonomi che ci hanno consentito di aprire una finestra investigativa su le altre attività dirittuose cui si dedicavano e da lì poi abbiamo ricostruito questa rete di collegamenti tra le consorterie e tra i sodali delle consorterie. Grazie. 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 Grazie.